carissimi pace buona giornata di benedica oggi e 2 agosto sono le sette del mattino cominciamo la lettura del primo capitolo del libro di jonathan gofford per lo spirito mio capitolo che si intitola quanto durerà il capitolo si apre con una domanda ma durerà e riferimento naturalmente all'opera dello spirito e al risveglio e secondo l'autore questo è frutto dell'incredulità che ci spinge a porci queste domande perché sicuramente l'opera durerà a condizione che il credente rimanga fedele al suo signore e obbediente alla parola di dio quando i servi di cristo acquistati con il suo prezioso sangue cedono a lui il pieno controllo tutte le risorse della trinità sono in azione per la gloria dell'agnello che è stato immolato l'efficacia del battesimo dello spirito santo e del fuoco divino vengono meno soltanto quando la vita del credente decide di agire di propria volontà e di soffocare lo spirito santo a un certo punto le esperienze della pentecoste infatti si concluse questo non perché era la volontà di dio la pentecoste è la volontà di dio così come lo fu il risveglio di wesley non è il signore in altre parole ma l'uomo quello da biasimare per il modo secondo l'autore pietoso in cui i canali di benedizione che sono originati che si sono originati in questi grandi movimenti si siano poi ostruiti possiamo immaginare qualcuno determinato a servire il signore con tutto il cuore chiedere durerà in un paese della manciuria lì dove lo spirito santo era disceso con straordinaria potenza sulle persone gli evangelisti cinesi andarono a chiedere al missionario perché non avesse mai insegnato loro che lo spirito santo era in grado di operare in maniera così efficace il ministro il missionario rammaricato rispose di non sapere che fosse possibile una cosa simile questo è un triste venire fuori dalle scuole dei profeti e non rendersi conto che lo spirito santo può conferire autorità di annunziare un messaggio profetico un'associazione evangelistica di una città del mio paese di origine scrive jonathan goffort una volta mi invitò a raccontare l'opera vivificante dello spirito santo in cina e nel mio discorso li assicurai di non avere alcun motivo per considerarmi un favorito del signore ciò che dio in altre parole aveva fatto attraverso di me in cina era desideroso e sicuramente pronto a compierlo anche in canada grazie alla strumentalità di altri ogni ministro dovrebbe avere la fede il coraggio di cercare da dio la virtù dello spirito santo per vedere originarsi un risveglio continuai mettendo in risalto che john wesley i suoi collaboratori erano uomini come altri fino a quando i loro cuori non furono toccati dal fuoco divino e allora le cose cambiarono in modo deciso a quel punto un metodista di un certo peso mi interruppe ed esclamò che cosa intende dire che non predichiamo meglio adesso di quanto non abbia fatto john wesley nel passato state ottenendo gli stessi risultati gli chiesi la risposta evidentemente era no e quindi secondo l'autore il problema non è la qualità della predicazione ma la potenza della predicazione stessa tant'è che in un'altra occasione gli venne chiesto di occuparsi di un incontro del sidono del sinodo scusate presbiteriano a toronto e prese come tema il risveglio di chan te fu del 1908 ripenso scrive l'autore a quel risveglio come a forse il più potente movimento dello spirito santo che abbia vissuto durante quei dieci giorni meravigliosi ci furono ben sette occasioni in cui mi fu impossibile predicare per la grande contrisione delle persone mentre facevo il mio intervento al sinodo un professore di teologia seduto a un tavolo vicino sembrava tutt'altro che felice il mio resoconto sul potere di convincimento che lo spirito santo aveva sugli ascoltatori cinesi sembrava far arrivare i suoi nervi al limite mi accorsi che c'era un altro professore di quel seminario che sedeva dall'altra parte della stanza e si agitava sulla sedia anche lui a disagio infine sembra che si sia girato attorno e abbia mormorato ai vicini sciocchezze una cosa pericolosamente vicina al peccato contro lo spirito santo mi chiedo allora come possono aspettarsi queste persone che dalle loro scuole vengano fuori giovani profeti con un messaggio da parte dello spirito santo possiamo stupirci del fatto che la spiritualità sia così in declino in tutto il mondo evangelico il 32 per cento delle chiese protestanti degli stati uniti non segnalano alcun aumento dei membri dal 1927 l'autore stava scrivendo diversi anni dopo la frequenza delle chiese della gran bretagna e meno della metà di quanto fosse 25 anni fa non c'è alternativa o il risveglio dello spirito santo o l'apostasia e credo che nei giorni che noi stiamo vivendo abbiamo bisogno di un risveglio di un risveglio che possa innanzitutto infiammare i cuori di amore per cristo affinché si possa uscire dalle ipocrisie dalle maschere che delle volte si indossano affinché tutte le spine che ormai stanno soffocando il seme dell'evangelo in molti purtroppo troppi cuori possono essere bruciati affinché le catene dell'incredulità della superficialità e del peccato possano essere definitivamente spezzate non abbiamo alternative abbiamo bisogno che lo spirito santo intervenga in un modo straordinario non bastano i bravi musicisti non bastano le predicazioni teologicamente perfette sono importanti sono necessarie ma non sono sufficienti se lo spirito non si muove nulla accade e allora è tempo che preghiamo affinché lo spirito santo torni a soffiare in un modo glorioso perché l'unica speranza che l'opera di dio ha di andare avanti e che sia lo spirito a guidarla e questo è possibile quando la chiesa quando i credenti cominciano ad invocare l'unzione di dio e a desiderarla con tutto il cuore e spero che questo sia il desiderio che arriverà ad animare ognuno di noi vi saluto con la pace del signore e con la speranza che queste breve riflessioni siano un qualcosa che accende in noi un desiderio vivo di vedere il signore all'opera dio ci benedica insieme grazie a tutti Grazie a tutti.